Giovedì 23 novembre carissimi amici del canale youtube rieccoci ben ritrovati stamattina commentiamo insieme una vera e propria bomba di mercato una rivelazione clamorosa da parte dell'ex dirigente del Milan ed ex capitano del Milan Paolo Maldini sapete che dal 5 giugno scorso non lavora più al Milan perché è licenziato dalla proprietà Redbird da quel momento praticamente non ha più parlato e ieri sera invece ha parlato ha fatto delle rivelazioni interessanti, vari argomenti al Porecast che sarebbe il podcast di Giacomo Poretti, Giacomo del trio Aldo Giovanni e Giacomo quindi anche interista tra l'altro e in quella occasione ha parlato Paolo Maldini di un tentativo da parte del Milan per una decina di giorni di prendere Lionel Messi clamorosa rivelazione di Maldini il Milan ha provato a prendere Lionel Messi per 10 giorni non specifica quando supponiamo quando il Messi a parametro zero o meglio Messi che non ha potuto rinnovare col Barcellona poi è andato a giocare al Paris Saint Germain immaginiamo che sia in quell'occasione lì perché poi Messi era sotto contratto prima col Barcellona e poi col Paris Saint Germain e servivano anche soldi per acquistarlo quindi non specifica quando ma immaginiamo che sia in quel momento lì per una decina di giorni il Milan ha provato a prendere Messi dice Paolo Maldini poi abbiamo capito che non era cosa ho visto anche un po' di ironie su questa situazione qualcuno dice voleva prendere Messi alla fine ha preso Messias ovviamente era un sogno irraggiungibile irrealizzabile anche perché con questa proprietà è impossibile che il Milan vada a prendere giocatori con un ingaggio da 10, 15, 20, 25 milioni di euro a stagione è letteralmente impossibile quindi è stato anche un po' un tentativo credo forse anche uno sfizio che ha voluto farsi togliere Paolo Maldini andando a provarci ma ovviamente ha poi ricevuto il no ha poi ricevuto come dire il rifiuto anche perché immaginiamo che Messi in quel momento aveva tantissime offerte e ha scelto l'offerta economicamente più vantaggiosa cioè andare al Paris Saint Germain e guadagnare tantissimi soldi però come rivelazione di mercato come retroscena è davvero molto curioso è molto potente, pesante infatti da ieri sera ne parlano tutti ed è anche giusto così innanzitutto perché ha parlato Maldini e non parlava da tempo ma poi ha tirato fuori questo grande retroscena commentate e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate ci stiamo avvicinando alla partita contro la Fiorentina la gara che dovrebbe riportare il Milan sui binari giusti la gara che dovrebbe riportare il Milan a sorridere perché in effetti la sosta i tifosi del Milan voi amici del canale ma in generale immagino anche i giocatori rossoneri non l'hanno vissuta bene una sosta che ha lasciato tanto amaro in bocca perché naturalmente pareggiare 2-2 con il Lecce dopo che si è passati in vantaggio di due gol contro una squadra che deve salvarsi come il Lecce non ha fatto sicuramente piacere a nessuno anzi il Milan è quella partita ha rischiato anche di perderla Stefano Pioli non è stato messo veramente in discussione dalla proprietà e dalla dirigenza però è anche ovvio ragazzi che non si può sempre perdere non si possono sempre perdere punti soprattutto in un club come il Milan soprattutto in una società come il Milan che deve ambire sempre al massimo deve ambire sempre a primeggiare e negli ultimi anni sappiamo le cose come sono andate il Milan ha vinto sì lo scudetto ma poi ha fatto anche tanti risultati negativi parlo degli ultimi 10 anni quindi al di là di quello che è successo negli ultimi 10 anni il Milan ha l'obbligo sempre di puntare al massimo chi allena il Milan sa che 2-3-4 partite di fila non può pareggiarle o perderle deve cominciare a vincere deve vincerle quindi Stefano Pioli sa ed è consapevole che comunque si è giocato molto credito in quest'ultimo mese dove ha portato a casa 2 punti su 12 a disposizione dove ha vinto 0 partite ne ha pareggiate 2 e ne ha perse 2 e ora che la squadra riprende il cammino in campionato contro la Fiorentina c'è bisogno subito di un risultato positivo perché? perché innanzitutto se il Milan non dovesse vincere salirebbero a 5 le partite senza vittoria io immagino anche che la posizione di Stefano Pioli diventi sempre più complicata l'allenatore ha comunque delle responsabilità perché allena una squadra allena un gruppo se ci sono delle difficoltà di equilibrio tattico per esempio si subiscono troppi gol o si fanno troppi pochi gol il responsabile è sempre l'allenatore ma non c'è qualcosa di personale nei confronti di Pioli è sempre stato così anche dai tempi di Sacchi di Ancelotti di Capello di Allegri l'allenatore è sempre responsabile di quello che si vede in campo e se il Milan non gira a dovere dopo un buon calcio-mercato perché comunque dal mercato sono arrivati dei giocatori importanti interessanti come come Pulisic come Musa come Cucuete come Okafor come Loftucic e Reinders sono comunque giocatori interessanti importanti se la squadra non rende il primo responsabile è sempre l'allenatore con questo non voglio dire che Stefano Pioli è arrivato al capolinea ma sicuramente la gara con la Fiorentina sarà indicativa la gara con la Fiorentina il Milan la deve vincere soprattutto per spazzare via le nubi per spazzare via le critiche per riportare la squadra sui binari giusti e per provare a rosichiare qualcosa a Inter e Juventus che si sfideranno in una partita proprio in questo weekend quindi quale occasione migliore per riprendere un po' di quota in in campionato in classifica tenere la Fiorentina a distanza perché non ci dimentichiamo che la Fiorentina si è avvicinata molto al Milan e prendere una boccata d'ossigeno Pioli comunque secondo me con questa partita e con la partita contro il Borussia Dortmund si gioca abbastanza e comunque sono comunque due partite molto importanti per il cammino del Mian ma anche per l'allenatore stesso quindi io terrei sicuramente monitorata la situazione di Stefano Pioli perché non vincere contro Fiorentina e Borussia sarebbe ancora più pesante quindi solamente per questo è giusto capire che risultati usciranno da questi due match ravvicinati per quanto riguarda i recuperi ragazzi ne abbiamo parlato della serata di ieri lo ribadiamo anche questa mattina il Mian ha recuperato Pulisic e Calabria giocatori che erano assenti contro il Lecce sicuramente non ci saranno Leao e Giroud e purtroppo per il Mian quando non ci sono Leao e Giroud contemporaneamente si vince poco pensate in 11 partite giocate dal Milan senza Leao e Giroud il Mian ha vinto solamente tre volte senza questi due titolarissimi dal primo minuto tra l'altro recentemente proprio una vittoria a Cagliari 3 a 1 senza Leao e Giroud dal primo minuto ma in quella partita c'erano Ciukueze Okafor e Pulisic vediamo se sarà anche questo il tridente che ha in mente Stefano Pioli per provare a vincere contro la Fiorentina o sarà invece il turno di Jovic c'è questo ballottaggio in atto allenamento di oggi che dirà comunque molto sulla situazione di Loftucic la speranza è di averlo almeno tra i convocati però nella giornata di ieri sia lui che Simon Chier hanno svolto allenamenti personalizzati io ora vi lascio con le parole dell'amministratore delegato Giorgio Furlani che ha parlato al social forum di Roma dove ha parlato degli investimenti di Redbird degli investimenti nel calcio comunque sono parole sempre interessanti per chi per chi ama questo genere di visioni calcistiche io credo che comunque per una infarinatura generale e per una sorta di cultura generale tutti dovrebbero essere a conoscenza di queste dinamiche finanziarie che riguardano i club sportivi e poi ovviamente ha parlato dell'importanza del decreto crescita vi lascio con le parole di Giorgio Furlani AD del Milan ciao e nelle ultime sessioni di mercato in realtà se andiamo a guardare il saldo entrate e uscite del Milan siete stati il club che al netto degli incassi ha investito di più ha speso di più sul mercato perché a me poi termine investire sul mercato è sempre un'ambivalenza ecco continuerete così cioè sarà questa la vostra filosofia quella di investire man mano che la crescita arriverà oppure ritenete di aver raggiunto un livello di competitività che vi può assestare allora il progetto si basa sul successo sportivo e io sono convinto che si deve per forza sbasare sul successo sportivo e che nel medio periodo gli interessi diciamo del tifoso e dell'azionista sono gli stessi il successo sportivo crea successo finanziario ed è quello che abbiamo visto noi con con i conti nostri dell'anno scorso quindi chiaramente mi sembra scontato e strano che bisogna dirlo e ripetere ma il i i le risorse che vengono create dal business diciamo vengono necessariamente reinvestite nel prodotto calcio per avere più successo per continuare a creare questo ciclo positivo se no si arresta inevitabilmente a me sembra un totale controsenso una pazzia andare a cambiare una norma che è la norma che ci permette di andare verso la strada giusta e che ha insita nella parola decreto crescita che aiuta l'economia il paese a crescere quindi mi sembra una totale pazzia cancellarlo aggiungerei alla tua lista di benefici il fatto che in virtù di tutti questi extra ricavi apportati avete pagato più tasse quindi indirettamente questo è ritornato fra l'altro